Buongiorno a tutti! Ci sono anche quelle in ferro semplici che hanno l'elastico da una parte, il loro primario utilizzo è quello di impedirti di rimanere staffato e quindi praticamente quelle che hanno la clip di ferro servono perché se il piede fa forza appunto si apre e tu non rimani staffato e riesci a uscire il piede, invece quelle con l'elastico tu rimani, diciamo fai il peso sull'elastico, l'elastico si rompe e poi quello si può cambiare. Allora, sinceramente non le ho mai utilizzate, le ho visto utilizzate soprattutto magari ai bambini piccoli che fanno scuola ma anche chi fa salto, magari utilizza quelle più particolari. Non le ho mai provate, io all'inizio volevo prendere le free jump però poi ho visto un video dove praticamente un cavaliere di fama abbastanza importante che non ricordo però chi è, si sono praticamente spaccate durante un salto di un suo cavallo e ho cambiato sinceramente la mia opinione. Però non toglie che magari ce ne possono essere di marche più fatte meglio e quindi magari c'è chi si trova bene e le utilizza. Poi, altre staffe sono le staffe quelle a panca obliqua tipo le Lorenzini o anche le Jeans Tearups ci sono, o anche di altre marche ma non mi ricordo quali sono però metterò delle foto. Quelle io le ho provate più che altro le Lorenzini, in teoria il loro compito è quello di tenere i ripiede nella posizione corretta quindi col tallone basso. Bene, per mia esperienza, ovviamente per quello che ho provato io, le Lorenzini non sono state le staffe migliori che io ho provato perché praticamente non riuscivo almeno, a meno che non stavo messa tipo malissimo in sella a tenere, a meno che non tenessi i piedi a papera, a tenere praticamente i talloni super bassi. Quindi non sono riuscita. Molta gente le trova utili, ci sono anche quelle da dressage fatte a questo scopo, però era buono solamente il grip che avevano perché era fatto di metallo o di ferro, qual che sia, quindi era davvero molto buono. Queste qui hanno dei prezzi un po' più altini rispetto alle altre. Poi ci sono quelle staffe a panca normale, quindi a panca piana. Anche di queste ce ne sono di varie marche, io le mie due prese dell'HKM non sono neanche costate così tanto, le nuove, e devo dire che mi ci trovo molto meglio. Sono un po' diverse, hanno un po' un meccanismo diverso rispetto alle altre, però io personalmente mi ci trovo meglio e sinceramente le consiglio. Poi, vabbè, queste qui a panca piana possono variare in quelle che hanno, diciamo, le parti delle staffe in gomma e si possono regolare e così via. So anche che ci sono delle staffe che si chiamano le flex-on, che sono praticamente delle staffe che hanno al di sotto della panca, che è piana, dei gommini, non saprei come spiegarvelo, che fungono, tipo, non so se avete presente quelle giustrine che hanno la gomma sotto, cioè la spirale sotto, e fanno tipo questo movimento così. E praticamente non dovrebbero servire questo, nel senso che a seconda di come si muove la punta del piede, la panca si modella a questo scopo, quindi dovrebbero garantire una migliore aderenza. Queste però so che costano parecchi soldi, non so precisamente quanto, però costano davvero tantissimo. Io personalmente consiglio le staffe normali, quindi che siano d'acciaio, eccetera, però le staffe a panca piana e dritta. Le consiglio sinceramente molto di più rispetto magari, quanto meno alle Lorenzini, perché comunque io mi sono trovata male, poi ovviamente ognuno è libero di far ciò che vuole, a meno poi se uno vuole una sicurezza maggiore rispetto alle altre staffe, allora a quel punto può prendere le staffe di sicurezza, che ce ne sono anche a panca piana, di sbagliate marche, però io personalmente consiglio delle staffe che siano magari di alluminio, ferro, ora non so quale è la lega precisa di cui sono fatte, in modo che comunque sono più resistenti uno, e secondo, anche se si dovesse poi togliere il colore, perché può capitare, a me era successo con le primissime staffe che avevo, basta comprare una bomboletta al ferramenta, scartavetrarle un poco, e tornano anche meglio di come erano sinceramente all'inizio, più lucide. Quindi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, e se avete qualche cosa a richiedermela scrivete qui sotto nei commenti. Ciao!